Le nuove prospettive e i nuovi scenari previdenziali al centro di un dibattito organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Napoli. Sono diverse le prospettive allo studio della Cassa Ragionieri, dall'aumento dell'età pensionabile dai 65 ai 68 anni alla contribuzione soggettiva al 15%. Ad aprire il convegno dal titolo Presente e futuro della Previdenza dei Ragionieri Commercialisti, il presidente della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri Paolo Saltarelli, che ai nostri microfoni sottolinea. Quello che le casse si lamentano è che questa cosa qui viene richiesta di fare in sei mesi, sono le cose assolutamente improponibili, anche perché non ci dimentichiamo che fino a sei anni fa la richiesta di equilibrio era 15 anni, poi è diventata 30, adesso diventa 50, quindi nel giro di sette anni è diventata una cosa pazzesca. Quanto tempo invece vi servirebbe per adeguarvi a questa normativa? Dunque dipende qual è lo scopo finale dell'adeguamento a questa normativa, perché credo che un anno di lavoro possa essere più che sufficiente da questo punto di vista. Se dietro la richiesta di equilibrio a 50 anni ci sono altri disegni su cui potremmo anche, secondo me, lavorarci, probabilmente con qualche anno, segnando bene i paletti e i confini di questo progetto, possa essere un progetto che si può portare a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.